Sì, prepariamo, benegato Simone, Bosco e Stefano. Sì, prepariamo, benegato Simone, Bosco e Stefano. Sì, guardiamo, 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 guardiamo. Quando viene? attenzione il chilogramma in 100 maschili secondo dà combatterà tra pochi minuti adattami numero 2 100 maschili secondo dà adattami 2 tra pochi minuti 5 silvio e pezzo cavalloro si preparino attenzione tra circa 10 minuti iniziamo con i 73 73 kg tra una decina di minuti circa la Parti chiuso Vai adesso Buono, buono Dai, dai, dai Dai, dai Dai, dai Guarda la manica 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 Questa è svolta Oh, ce l'hai tu, ce l'hai tu Sucatabili, primo da Maschiglio 60, Pagno Shin, il manzoccato. Si preparino il micro-emissorio. Vincenzo Adjo. Vincenzo Adjo. Vincenzo Adjo.